Una brutta sconfitta per il Barano, che cosa c'è da salvare da questa partita secondo te Luigi? Visto il risultato non c'è molto da salvare, c'è da salvare l'esordio dei ragazzi che comunque si impegnano tutta la settimana e quindi è giusto che oggi abbiano avuto anche il giusto premio, c'è da salvare il fatto che noi lo sapevamo dall'inizio che la situazione non era facile in quanto queste compagini sono nettamente superiori a noi, però noi ce l'eravamo detti che la prima cosa era divertirsi e lo stiamo facendo, siamo sicuramente rammaricati per i risultati, però non fa niente, va bene così. Vi mancavano anche tantissimi elementi, immagino che la sproporzione di energie soprattutto durante la ripresa vi abbia tolto anche la possibilità di rientrare in gara? Sì, sicuramente oggi mancava Nicola Conte e Angelo Arcamone che in questa categoria forse sono gli unici che la fanno da più anni rispetto agli altri quindi per noi sono assenze importanti, mettici pure le assenze e il risultato è questo.